Dopo 58 anni il Giro d'Italia torna a passare sul nostro corso principale e per noi è una grandissima emozione. Siamo legati al ciclismo in generale perché per tantissimi anni abbiamo fatto qui il Giro d'Italia che era una gara per dilettanti che però dava l'accesso alle competizioni nazionali. Quindi questo è un evento che da una parte ci inorgoglisce perché l'Italia sceglie di andare nei piccoli comuni e dall'altra ci fa tornare alla mente la grande passione che ha avuto la comunità di Casa Calenda per il ciclismo e che ancora conserva nel cuore pur non potendo oggi riproporre lo stesso evento. La popolazione ha accolto con grande energia e anche tanta motivazione il passaggio del Giro addobbando e rallegrando balconi con tutto quello che hanno potuto e con una grande inventiva. Sicuramente il lavoro straordinario delle signore dell'uncinetto ha regalato e regala al Giro d'Italia in generale delle opere e dei manufatti straordinari che sono appunto le nostre biciclette rivestite tutte all'uncinetto. Un lavoro certosino che ha impreziosito ancora di più il comune di Casa Calenda. Si può vedere il colore, è sicuramente quello del Giro ma è anche il colore di una comunità che vuole ripartire, che non vuole essere dimenticata, che ha bisogno di ricominciare ad essere quella che è stata per tanto tempo. Tanto stiamo facendo anche come amministrazione ma tanto deve fare anche la gente per dimostrare che vuole restare viva, che vuole restare qui in questi territori così difficili e così complessi. Ci prepariamo per partecipare a importanti competizioni che non sono quelle sportive ma sono competizioni culturali perché vogliamo in qualche modo far conoscere anche tutto quello che ha il nostro paese. Abbiamo un festival del cinema importantissimo nella prima settimana di agosto, abbiamo un museo di arte contemporanea che ha cambiato il paesaggio di Casa Calenda nel corso degli ultimi 30 anni, una galleria civica di arte contemporanea e anche tante manifestazioni che organizziamo per chi vuole tornare durante l'estate ma anche per chi resta, perché abbia comunque il piacere di vivere questo territorio in tutte le stagioni. Grazie a tutti.